Ciao a tutti siamo Ricky e Teo and this is Allora, siccome prima abbiamo fatto la reaction di Pablo Vitar e non mi ricordo mai il nome Luisa Sonza, non lo sappiamo Se non l'avete visto andatelo a vedere Se volete seguirci sui nostri profili di Instagram siamo Teo Yonse e Bored Richard E niente, adesso abbiamo deciso di fare la reaction di Isa Isa o Iza, commentate come si dice Isa, Isa e Gloria Groove Yo-Yo Yo-Yo, ce l'avete commentato in tantissimi già È uscita ieri e l'avete già commentato in tantissimi quindi Non vediamo l'ora, iniziamo subito Sono più sobrio Chi sarà? Gloria, la mi sguardo Sembra Telephone Vi le dica che Bios è Lei come Lady Gaga Esatto, le Bios è quella Eh sì, hanno preso Ha preso ispirazione Eh sì, anche dietro lo sfondo del camion Se sono loro le criminali è preso ispirazione Yo-Yo Ma lei ha già fatto la reaction degli altri video Lisa No, adoro Tra questo e l'altro video No, mi sembra la famiglia E' questa lomba lomba È proprio quella Adoro, adoro Lei senza fisico Madonna Come il ballo di Onlin Maiazze delle Fistarmoni Lo saperemo di sì No, bellissimo Oddio No, cos'è? Ti rimani in testa Sì Cosa vuol dire ragazzi di ritornare da commentare? È stato un palo, un palo, io, io Il calore Adoro No Ci sono anche in questo un sacco di scena di... Sì Di out, di tutto Sì, è tutta Sì, è ripetitiva Esatto Perché praticamente dice sempre quella frase di Top però Anche il video è un sacco bello Anche lo stile dei video Un po' tipo anni 50, 60 È vero Bello, allora gli do un... 8 Anche io? 8 Bello il video E commentateci altre che reaction da fare di Isa Che soprattutto è una nuova artista per noi E di Gloria Groove Esatto Commentate qui sotto Mi raccomando Tanti adoro, adoro Like, 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 like Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti Vi mandiamo un cuore Grazie Brasile per tutto E grazie anche a tutti gli altri Sì, esatto Se volete seguirci su Instagram Theo Jons e Bored Richard Ve l'abbiamo già detto all'inizio Sì E niente, ci vediamo con un prossimo video Ciao 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 Ciao